Salve a tutti, in questo video parleremo dell'assistenza che può essere fornita direttamente dentro OBS Studio come vedete io ho aperto Discord, perchè? perchè Discord è il metodo che viene utilizzato da OBS Studio per dare assistenza allora se non lo sapete Discord è un sistema per chattare, parlarsi e viene utilizzato molto anche dai gamer allora su OBS Studio vi basta andare nel menu in alto, aiuto, uniciti ai server Discord e si aprirà il vostro browser e sarete guidati per la creazione di un account su Discord e se avete già Discord vi date la vostra password, la vostra mail, la vostra password e vi collegherete direttamente al server di OBS con tutte le varie stanze poi volendo potete anche scaricarvi per la vostra distribuzione Linux o per Windows Discord e quando lo aprite mettete i dati di OBS che avete messo prima per il server di OBS cioè la vostra mail e la vostra password e vi collegherete direttamente nel server di Discord per OBS ci sono varie stanze, tutte le stanze sono in inglese non ci sono le varie internazionalizzazioni quindi non potete parlare in italiano perché non c'è il gruppo degli italiani nel quale potete discutere però potete avere tutte le informazioni che vi servono perché rispondono veramente subito e in tempo reale per questo video tutorial è tutto